Allora amici, con questo video farò una cosa che non ho mai fatto in tutte le altre 400 e 1000 perle. Prendo spunto da un argomento che stiamo trattando io e Mauro Mengotto con un nostro allievo, Gabriele, che è un bravissimo batterista rock e che da un anno che studia con noi, con la Jazz Dramacali, con la Jazz Dramacademy, sta veramente immergendosi nel linguaggio jazzistico. Migliorando, io mi spingo oltre alla superficie di un bel timing, di un bello swing sul piatto, di un'esecuzione ottimale dal punto di vista della stesura di un brano. Mi spingo oltre e vado alla ricerca dei dettagli, far risaltare le parti melodiche, le parti armoniche. Con Gabriele stiamo affrontando il discorso Big Band e stiamo suonando, ad esempio, April in Paris. Ora, dicevo, questo video è un po' un esperimento per farvi partecipi di quello che è una vera e propria lezione nel dettaglio che facciamo con i nostri allievi della Jazz Dramacademy. Non tutte le lezioni con i nostri allievi sono così, come adesso vedrete. Dipende dal livello, dipende da cosa si sta affrontando in un periodo. Può esserci il periodo in cui si studiano solo solfeggi ritmici, oppure solo tecnica, rudimenti, oppure i primi studi di indipendenza. Quando si va oltre, si comincia a chiacchierare di musica, discutere di musica e approfondire gli stili, ecco che allora possiamo mettere a fuoco quello che è il dettaglio dell'esecuzione di un brano, di un disco, Dixieland, New Orleans, Swing, Bebop, Latin, Free, un disco swing in trio, in quartetto, in quintetto, in big band, ecco. Allora, April in Paris con il grande, meraviglioso Sonny Payne alla batteria. Allora, April in Paris con il grande, meraviglioso Sonny Payne alla batteria. Allora, April in Paris con il grande, meraviglioso Sonny Payne alla batteria. Io ho fatto l'intro e tutto il primo chorus tematico. intro, hi-hat, piano, di nuovo forte, di nuovo piano, tema, piatto, side stick in due in quattro, eccetera. In questa parte tematica dei sassofoni si può andare oltre un cambio timbrico, hi-hat nell'intro, piatto con side stick su due sul quattro, sul tamburo. Questo quarto quarto della melodia dei sassofoni è una nota conclusiva di questa frase, è una nota che apre. Quindi, anche se non è scritto in partitura per noi batteristi che dobbiamo fare qualcosa di speciale in quelle note, io ricordo quando suonavo nella big band di Paolo Tomelleri o nella big band di Gianni Basso, e ho suonato per anni questo e decine di altri brani dell'orchestra di Caombesi, di Duke Ellington, di Glenn Miller, di Woody Herman, eccetera, il dettaglio timbrico che io devo adottare per far risaltare a mia volta senza invadere questo richiamava il fatto che io quando accompagnavo sul piatto, appena arrivava quella nota, davo un leggero colpo sul piatto a un volume un po' più alto del resto dell'accompagnamento. Quindi, non suonavo quella cellula che comunque andava benissimo, ma la suonavo April in Paris lo posso cantare tutto, però questo video poi dura un quarto d'ora. Rimando al prossimo video quello che segue dopo questo primo chorus tematico. Ecco, allora, per concludere, per poi passare al prossimo video, la gestione timbrica, la gestione dei dettagli è un qualcosa che viene apprezzato dagli altri musicisti quando noi li sappiamo gestire. Come possiamo gestirli? Conoscendo queste piccole particolarità dal punto di vista tematico e dal punto di vista armonico. In questo caso April in Paris è tutto in maggiore, ma potremmo trovare dei brani che hanno una parte in minore e una parte in maggiore. A quel punto non è che noi la parte minore dobbiamo suonarla con la faccia triste perché è minore, poi arriva la parte maggiore e sorridiamo. Dobbiamo gestire timbricamente e dinamicamente tutte queste sezioni. Ora, parliamo di jazz naturalmente. Un bravo batterista jazz è quello che ha una buona tecnica, un buono swing sul piatto, un buon timing, ma un miglior batterista jazz è quello che, oltre a queste caratteristiche doverose, è anche quello che ascolta con orecchie armoniche e melodiche. Vi ricordo che sotto ogni video di queste peri di saggezza c'è il link per curiosare sulla pagina menu della Jazz Drama Academy. Dopodiché, se vi interessa, cliccate nel punto specifico, mandate una mail alla produzione e da lì potete conferire. Vi aspettiamo tutti perché questo modo di fare lezione, al di là degli esercizi, dei solfeggi, di tutto quello che serve per avere una meccanica dignitosa sullo strumento, è quello che potremmo studiare insieme. Brano per brano, stile per stile. Io ho avuto la fortuna di suonare centinaia di brani con decine di band in tutti gli stili del jazz e quindi perché non buttarmi a spiegare quella che è stata la mia esperienza e il mio modo di interpretare la batteria oltre la tecnica. Ciao, a dopo.